Questo latte è freddo, fa schifo! Beh, Ramiro, per favore, non parlare con la bocca piena. Ora, ora... No, lascia, lascia, lascia. Lo scaldo io. Ah, eh, tu? Grazie. Di niente. Arfanca? Io dovrei parlare con te urgentemente. Che succede, Gretina? Niente, Gretina. Che sta succedendo tra te e Frau Amelie? Ancora questo, Greta? Smettila, per favore, smettila. Nein, mein Herr. Niente smettere pasta. Quello che io vedere con miei occhi è essere molto grave. Non potere passare sopra. Tu e tuo cemello avere testa piena di fringuelli. Non essere pene, come sto dovere risolvere. Che dolce che sei, Greta. Cosa? Tu stare ridendo di me? Testa di fringuello? Nein, assolutamente. Tu e io doverei risolvere il problema in forma personale. Che vuoi fare? Vuoi chiudermi in camera? A chiave? No. Per non farmi uscire? No, piccolo. Io non essere stupita. Noi andare all'aia aperta, ossicenare polmoni, fare passecciate, vita depurativa, molti ottominali, salti a rana. Io doverei liberare ormoni che essere troppo stretti dentro di corpo. Che dici, Greta? Che pensi che siamo nelle forze armate? No, come non passi, eh? Non voglio fare ginnastica. E anche per sogno, immediatamente fare colazione, mettere tutta sportiva e non immediatamente uscire per liberare ormoni in sopuglio. Oh, Nicolas! Che ci fai qua? Che sorpresa carina. Beba, non c'è? No, Beba non c'è. È dovuta uscire perché la madre stava male. Ma che ti serve? Dimmi. Voglio che mi guardi. Ti guardo. Guardami, guardami. Sì, sì, ti guardo, ti guardo, sì, sì. Che vedi? Vedo due occhi bellissimi, un naso importante, una bocca ampia, affoltè sopracciglia. I dettagli no, l'insieme, l'insieme. Ah, sei bellissimo, Nicolas. No, no, non mi capisci. Tu guardami e dimmi che vedi, vedi un uomo o un ragazzo? Ah, vedo un ragazzo, Nicolas. Che vuoi che veda? Un ragazzo grande, ma un ragazzo. Lo sapevo. No, 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 no. Che ti succede? Non ti angosciare. Che ti succede, Nicolas? Cosa, dimmi? Io sono già cresciuto. Sì, certo. Sono già cresciuto, ma il look non mi aiuta, non mi aiuta affatto. Tu mi capisci? No, non ti capisco. Vediamo come spiegartelo. Io dentro... Sì? Sono un uomo. Ho degli obiettivi molto chiari, affronto la vita a testa alta, ho tutto chiaro, sono sicuro di me stesso, va tutto bene, ma ho l'aspetto di un tredicenne, purtroppo, tredicenne, ne più nemmeno. Ma non ti preoccupare, sai, tra dieci anni sarai un uomo dentro e fuori. Un po' di pazienza, Nicolas. Ma tu che pensi? Che io posso aspettare dieci anni per diventare grande? Io voglio venermi grande adesso. Senti una cosa, tu continui a fare psicoanalisi. Qualche volta è Bata? Dovresti continuare, io non so se c'è qualcosa che possa fare per te. Dimmi. Che posso fare, amore mio? Sentiamo, piccolo, sentiamo. Trasformami. Trasformarti io? Trasformami, dal verbo trasformare. Ah, molto bene, io ti trasformo, tu ti rilassi. Tu ti rilassi. Io mi rilassi. Bene, si aditi lì, avanti, velocemente. E per di più, Bata mi dice che non è niente, che è stata un'avventura senza importanza. Insomma, non si rende conto, capite? Ehi, mi hai tradito. L'unico problema è che tu ti sei messa con quel ragazzetto da quattro soldi. Questo è l'errore. Io non voglio dire niente, no. Però, mammina, te lo aveva detto e non hai voluto ascoltarla, piccola. Il medico che stiamo aspettando, fra quanto arriva? Non so. Salve, dottore, sì. La stavamo aspettando di persona, sa? L'aquilone a forma di dlagone vola nel cielo, mentre il filo è di canapa. Oggi io torno a lenzina. Visita le pazienti in hotel o visita le più tardi oggi? No, non c'è nessun problema per l'orario. L'aspettiamo. Per favore, venga. Mi scusi, vuole parlare con delfine? Ah, sì, certo. Acqua di pioggia fa le felice l'ospo. Eh, dottor Hua, a lei sembra necessario fare questo ritiro con delfina. Mamma, delfina muore dalla voglia di fare questo ritiro. Mamma, certamente è imprescindibile, cala suocela. Molto bene. Arrivederci, dottor Hua. Spero che la mia piccola sia pronta e preparata per la sua cura, senza impazzire. Plepalatissima, cala suocela. Allora, delfina, farai tutto quello che ti ha detto il cinese. Guarda che è molto importante, lui oggi se ne va. Se ti chiedi di trottare, trotteremo. Di masticare foraggio, masticeremo. Di fare la verticale, vertiche... Faremo la verticale, faremo tutto quello che c'è da fare. Delfina, se vuoi ti accompagno, così farà bene anche a me che sto un po' male. Qui la paziente sono io e nessuno verrà a ritiro spirituale con me, è chiaro? Va bene, delfina, è molto importante che tu stia trattando. Federico. Sono andato a prendere l'invito alla Camera degli Imprenditori per l'evento di oggi. Ti saluta, Chaves. Ah, vediamo. Bene, attenzione. Signore ingegnere Federico Frizenbach. No, ingegnere. Abbiamo il piacere di invitarla a partecipare all'evento in suo onore per essere stato eletto imprenditore dell'anno. Che bello, congratulazioni. Ovviamente stendiamo l'invito alla sua fidanzata, la signorina Santijan. Florencia. Che? Scusa, no, scusami, questo è per te. No, devono essersi sbagliati, Florencia e Delfina sono quasi uguali, foneticamente risultano uguali. È colpa mia perché quando io ho fornito i dati tu eri ancora con Flore e adesso... Basta, Mattias, non ci serve nessuna spiegazione. No, no. Andate e divertitevi. Delfina, senti... Federico, convincila a venire con te. Fate qualcosa, non vedete come l'ha presa? Io ne drogo la festa. Beh, ma l'invito dice chiaramente che... Ma sembra che non te lo ricordi, Federico, Delfina sta morendo! Come? Che ho detto? Sì, stupida cicciona. Non farle caso, Delfina, tesoro. Chi hai detto? Niente, non ho detto niente. Non ho detto niente. Non è città importanza. No, 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 perdonami, Delfina, quello che volevo dire è che... No, scusa, per favore, quello che voleva dirti è quello che dovremmo dirti tu. No, no, no! Perché non glielo dici in un altro momento? Per questo... Per questo lo specialista ha avuto tutte quelle attenzioni per me. No, perché tutte le meriti, piccola. No, mamma... Mamma, cosa ha detto? Niente. Delfina, non hai niente. Non hai niente. Non hai niente. Basta! Per favore, non voglio la vostra compassione. E voi due... Andate a quella festa. Andateci insieme. Siete felici voi che avete... Una lunga vita davanti. No, Delfina, ascoltami, io non ci vado. Delfina, contenta, adesso! Sei più tranquillo adesso? Sì, più o meno, è un po' pesante. Oh, beh, dai. La ginnastica. Beh! Io faccio ginnastica sempre, ma ora non ho voglia di farla. Anche tu leggi la mano, non mi dire. Cosa c'è? Che hai visto? Niente, lascia stare, porto la terra a mira. Aspetta, sediti qua. Hai fatto una faccia. Che hai visto? Parla. Beh, non so, qui dice che... che succederà qualcosa di brutto. Come? A me succederà qualcosa di brutto? Non so se a te, ma... ma questo è molto strano. È qualcosa che... che ti colpirà molto, Franco. Forse sarà Delfina. Sicuro? Sta così male che... Io me ne stavo andando... Cinque minuti per cambiarsi e cominciare a fare allenamento in giardina. Eh, Greta, ascoltami, amore mio. Ti ho già detto di no. Non lo voglio fare. O allenarsi o io raccontare tutto a Federica. Ok? Ragazzi, fermatevi. Lasciate fare a me, per favore. Piccola, piccola mia, amore mio. E comincia subito con la tragedia. Per favore, avanti. Sì, ma che cosa facciamo? Ora che quella stupida di Sofì ha aperto la sua boccaccia. Sì, uno sbaglio tremendo. Perché in realtà tu non avresti dovuto sapere proprio niente. Ma ora che lo sai che facciamo... Lo so, dobbiamo pensarci, ma subito. Tu adesso entri in una profonda crisi depressiva. Una depressione da cui può salvarti soltanto Federico sposandosi con te per farti felice negli ultimi giorni della tua vita. Certo, ma io non voglio questo, vero? Insomma, io voglio solo lasciarmi morire come Margarita Gaultier. Certo, geniale, piccola mia, brillante, stupendo. Sì, certo, tu non vuoi rovinarmi la vita. Non vuoi legarlo ad una moribonda. Lascia fuori a me. Ragazzi, ragazzi, venite. Delfina. Ragazzi, voglio soltanto chiedervi una cosa. Datemi la mano. Non dovete compatirmi. Scusatemi, non devo piangere. Non so perché lo sto facendo. Io sono stata molto felice. Nella mia breve vita sono stata molto felice. Non ho potuto fare tutto quello che avrei voluto perché, beh, sono ancora molto giovane. Questo è vero, ma... No, ma... Per favore. No, ti prego, non parlare del passato, Delfina. Tu hai ancora tutta la vita davanti, anche se diventerai un po' tonta. Mezza rimbambita, non capirei niente, o diventerai una piantina che respira. Tu starai con noi. Stai tranquilla, stai tranquilla. Il dottor Hua ti guarirà. Quello che devi fare è avere fiducia. Io non posso avere fiducia, Federico. Io ho perso. Ho perso la forza. Ho perso le mie illusioni. No, Delfina. Ho perso anche la volontà. Vi ho voluto tanto bene. Mettete le vostre mani qua. Vi ho amato. Voglio chiedervi un favore enorme. E fate questo per me. Andate a quella festa insieme. Divertitemi. Vi ho voluto bene. Io ho voluto bene. che vienerà